un cacca Releoncio mi scusi ma noi che facciamo nel frattempo? Ma che le sacci? Se ti metti le carte ci chiamiamo a Bresco ma ci manca sempre lo terzo Che c***o che tenete maestà? Si stenga io che posso fare lo terzo io se ci chiamiamo a Bresco ma l'insegnata io che è stop e se ci chiamiamo pure a 3 e 7 col morto Termofo di sei? Fermo di sei? Volevo dire mostro non ti avvicinare eh? Fermati che c***o stai fa? Ma non conosciuto Oddio no chi è? Fanni bene è Gio di Tonno che sta facendo l'imitazione ma veramente io non lo so Innanzitutto Gioà fammi fare i complimenti per Sanremo bravo eh ma io ma soprattutto ma Annaggia santo quanto è buona la ponza ma che c***o e io le ponza davvero eh è una cossa rapaticcia che parte da qua e mi finisce qua non so se ti hai reso conto ma veramente maestà no no Gioà sin da me hai chiesto a fare pure il calendario mannaggia santo pure il calendario e frega te chi stai pazzia che il mese d'agosto al momento mi ci chiede maestà credetemi stai tappiando un ragno un ciamaragno insomma io mi chiamo Pasquale finché da notaresca non volevo fare una partita a c***o volevo fare senza disturbare il mio giovane io non conosco questo giovane che avete detto voi e neanche stanno la panza come si chiama pure adesso io proprio non c'entro niente proprio Gioà capisco che dopo il successo di Sanremo vuoi mantenere l'anonimato e rispetto la tua privaci però ora avanti che stanno bene dai sperruttati e seguimi così ti presento la truppa e quindi pure quella canzone che fa eh ma buono ma io ma io non ce la faccio eh mi sa che non incomincia così ma buono eh quando hai finito di accordare lo strumento vieni state buono ah 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 senti che sinfonia ah ah chi è? apri sono papà papà ti avrò sul senso se mi dice la capitale della Grecia Atene molto bene e c'è mi in casa il telefono? Sant'Antonio e come si dice bagna in inglese? vado un buto che c***o prova ancora Filippo apri sta a piove ora ti apri la coccia e non hai una malangola va bene una giasanta sotto all'acqua mi ha lasciato ecco qua quattro piene apite chi è? sono papà papà mi fai dire di ma che li sorgalata a fa sui ogre spartani la battaglia finalmente è alle porte pregate gli dei stasera ceneremo nell'Ade ma dove è? come nell'Ade? ma son desiboni nell'Ade non ci vengo perchè ci sta Billade ma io volevo morire trafitto da diecimila frecce no nell'Ade fa troppo lucale io non posso venire devo andare lì per cop con mia moglie io devo stare a casa per le otto com'è uscito il 38? terno terno fatta terno allora controllate i numeri 15 25 e 38 uccidetelo comandi aia quindi non è uscito no non è uscito stai andando dimmi tu ma che c'è da fare? sono capito vai a comprar un brello non è uscito non è uscito non è uscito